Pari in rimonta al Bonolis con il Monopoli 1-1 garantito la continuità. I Biacorossi infilano infatti il quarto risultato utile con il cambio di modulo. 3-5-2 le cose migliori contro un avversario ispido, organizzato e pugnace. Torna Diachite, terzino destro al posto di Vittorini, non al top della condizione. Out Mungo a centrocampo Viero con Arrigoni e Santoro. Davanti Bombaggi e Costa Ferreira a supporto di Pizzauti. Manopoli in difficoltà, 7 punti nelle ultime 9 partite con 6 sconfitte. 3-5-2 Martio di fabbrica dal tecnico Beppe Scienza. Due gli ex Paolucci Mezzala nel triangolo di metacampo completato da Vassallo e Piccini. Cristian Bonino in attacco in coppia con Starita. Biancorossi subito, intraprendenti, decisi a comandare il gioco nella metacampo dei pugliesi che rispondono di rimessa. Il primo squillo è proprio degli ospiti. Corner di Paolucci al volo col mancino Nicoletti impegna Lewandowski. Squadra aggressiva il Manopoli che costringe l'avversario di turno a giocare male. All'avventunesimo l'equilibrio si spezza. Paolucci in profondità per Starita, contratto da Piacentini. La palla resta lì. Soprano non stringe su Gugliebre che in diagonale sorprende Lewandowski. Tutt'altro che impeccabile l'estremo terramano. 1-0 Manopoli. I biancorossi provano a reagire ma non vanno. Al di là di questa conclusione di Arrigoni che non si avvede di Costa Ferreira. Assai meglio posizionato. Precipitoso il capitano. Destro fuori misura. Opportunità che sfuma. Guai muscolari per Soprano. Rilevato da K. Diachitei centrale. Costa Ferreira terzino. Sempre 4-3-3 con Bombaggi dirottato a sinistra. All'intervallo Paci cambia a setto. Eschiera il suo terramo a specchio. Trascianni per Viero. Difesa 3. Costa Ferreira mezzala. sulle fasce K e Tentardini. Davanti il tandem Bombaggi-Pinzauti. Manopoli da subito in affanno. Punizione di K al sinistro. Carico d'effetto. Stacca Mercadante. Brivido per Satalino. Sugli sviluppi del corner. Acrobazia di Piacentini. Di un niente al lato. Prodromi tuttavia del pareggio. Settimo minuto. Cross invitante di Diachitei. Palese. La cintura di Riggio su Bombaggi. Nessun dubbio per l'arbitro Angelucci di Foligno. Rigore ineccepibile. Dopo gli errori nel match col Bari di Arrigoni e Bombaggi. Tocca a Pinzauti. Glaciale spiazzato Satalino. Terza gol in campionato. Quarto Coppa Italia compresa. Non accade altro. Il Monopoli supera il momento di impasse. Si riorganizza. Si compatta. Senza rischiare nulla. L'1-1 finale non fa una grinza.